Buongiorno a tutti e benvenuti a questo breve corso di azzeramento di informatica che consisterà in alcune puntate videoregistrate di breve durata, intorno alla mezz'ora ciascuna il cui scopo principale è quello di fornire a tutti coloro che dovranno frequentare il Politecnico in particolar modo io l'ho pensato per il mio corso di informatica del primo anno cercherà di fornire loro alcune competenze di base che in alcuni casi non sono disponibili a causa del tipo di scuola o per varie altre ragioni, in modo tale da dare una preparazione omogenea a tutte le persone io l'ho pensato in quanto molti studenti lamentano appunto una mancanza di questo tipo di competenze di base e quindi io penso, spero di poter parzialmente supplire a questo tipo di problema inoltre vorrei anche dare una piccola introduzione, far vedere due o tre cose relative a quello che può fare l'informatica nel campo dell'ingegneria e quindi l'utilità che può avere l'informatica in particolar modo oggi, in questo primo filmato, vedremo innanzitutto l'installazione di un programma che useremo per le prime due puntate dovrebbero esserci ne cinque in tutto che si chiama Snap dopodiché vedremo un piccolo esempio di un primo programma scritto in Snap che faccia qualcosa insomma, un piccolo esempio dopodiché siccome io vorrei essere certo che voi possiate capire e possiate vedere bene qual è la differenza tra un programma diciamo realizzato con questo tipo di tool e un programma reale tipo quelli che poi vengono realizzati nel corso di informatica del primo anno vedremo il medesimo esempio scritto in C e anche in Python vedremo anche un'applicazione reale Firefox che tutti conoscete, un browser e poi vedremo qualcosa di più curioso, sempre Snap e poi io vorrei terminare realizzando un esercizio e in particolar modo vorrei poi alla fine proporvi un esercizio per la prossima volta che voi potrete ovviamente realizzare per conto vostro ora direi che la prima cosa da fare è quella di installarci Snap innanzitutto che cosa è Snap? Snap è un programma realizzato dall'Università di Berkeley che è di fatto molto simile a Scratch che è abbastanza famoso Scratch è stato realizzato per i ragazzini diciamo dagli 8 al massimo ai 16 anni Snap è una versione se vogliamo un po' più raffinata nel senso che ha alcuni concetti di programmazione più avanzati programmazione avanzata ed è per questo che io l'ho scelto ora si può lanciare Snap direttamente da internet però supponendo di volerlo lanciare in locale cosa che io preferisco andiamo qua ci dobbiamo dunque scaricare a tutti gli effetti quello che ci serve scusate qui l'abbiamo lanciato da internet ovviamente se noi vogliamo invece scaricarcelo vedete noi qui finiamo su GitHub GitHub è un repository open source qui ci sono le istruzioni per installarlo è sufficiente andare qua ed ecco qua vedete questo è il file se adesso noi facciamo semplicemente così e lo salviamo possiamo di fatto salvare l'installazione l'installazione in realtà è veramente semplice perché questo file corrisponde a questo dopodiché con doppio clic lo si decomprime ne risulta questa cartella e in questa cartella c'è Snap per cui l'installazione in realtà è di una assoluta semplicità è sufficiente fare doppio clic qui per riuscire ad avere la Snap in funzione benissimo allora questo è il nostro ambiente innanzitutto per quale motivo ho scelto Snap che è invece di per esempio Scratch che è più famoso beh il motivo l'ho detto prima e cioè perché ritengo che Snap sia più adatto per quello che vogliamo fare noi e questo vale anche nei confronti di Snap scusate di Scratch 3.0 che è uscito pochi mesi fa ora come funziona questo ambiente il vantaggio di questo ambiente è che noi possiamo realizzare dei programmi semplicemente mettendo insieme dei blocchetti vi faccio un esempio semplicissimo vedete questo è il blocchetto che dà origine al programma dopodiché c'è un blocchetto di stop finale questo per esempio e in mezzo noi possiamo fare qualcosa per esempio possiamo far muovere lo sprite per esempio possiamo metterlo così si aggancia il nome Snap deriva dallo schiocco insomma per così dire dal rumore che viene fatto quando si agganciano i blocchetti ebbene vedete che questo è un programma estremamente semplice e lo scopo di questo ambiente di programmazione è come avrete immaginato prevalentemente grafico noi qui abbiamo un ambiente per così dire molto povero però potete immaginare questo sfondo bianco sostituito con sfondi colorati e questo che si è chiamato sprite cioè folletto qui è una semplice freccia ma lo possiamo sostituire con qualsiasi tipo di personaggio infatti l'idea di base di questo tipo di linguaggio grafico è realizzare degli ambienti animati dei video giochi pensate che si possono ottenere delle cose davvero molto raffinate pensate che i videogiochi più belli realizzati in scratch hanno fino a un'ottantina di programmi dove ogni programma è un blocchetto come questo che pilotano un gran numero di sprite come questo diciamo una cinquantina ogni sprite rappresenta un personaggio si muovono all'interno di una scena interagiscono tra di loro e con l'utente tramite il mouse ed eventualmente altri dispositivi insomma molto interessante diciamo che noi ovviamente ne vedremo soltanto una parte veramente minimale perché a noi interessa la parte di programmazione in quanto questo è un corso di azzeramento di informatica ora come funziona? nel momento in cui io faccio clic sul clicco con il mouse qui sopra vedete che il mio programmino viene contornato da un alone che indica che il programma è in funzione e vedete che il mio sprite si muove posso ottenere la stessa cosa cliccando sulla bandierina verde perché vedete che qui ho preso il blocchetto quando la bandierina verde viene cliccata se il programma dura parecchio tempo posso interromperlo usando il pulsante rosso oppure metterlo in pausa usando quest'altro pulsante comunque adesso vedremo meglio tutto ciò ah notate che se io voglio duplicare questo pezzo di codice posso fare tasto destro duplicate e vedete che io ne ho due comunque vedremo meglio tutto questo poco tra poco ah se voglio invece buttare il mio pezzo di codice è sufficiente che lo trascini qua ed è fatta ora realizziamo quindi un programma il nostro primo programma un minimo più serio allora quindi riprendiamo il nostro blocchetto di partenza riprendiamo il nostro blocchetto di arrivo e in mezzo vogliamo fare qualcosa di interessante per esempio vogliamo prendere un realizzare un programmino che cominci tanto per iniziare a chiedere qualcosa allora vedete che noi qui sulla sinistra in alto abbiamo tutta una serie di menu di vario genere che permettono di chiedere o comunque insomma di effettuare delle azioni di vario tipo per esempio il moto che poi capite che riguarda lo sprite il looks cioè le apparenze quindi varie cose tra cui stampare visualizzare il suono che noi non vedremo la penna perché questo oggetto può essere pensato come una penna questo lo vedremo tra poco poi il menu più importante control che vedete che contiene tutta una serie di diciamo di istruzioni di controllo che sono quelle che ci interessano di più in particolar modo queste poi tutta la parte di sensoristica che anche essa ci interessa moltissimo gli operatori che vedremo brevemente più avanti e poi le variabili che vedremo tra poco ora la prima cosa che ci interessa dunque è realizzare un programma che chieda per esempio un numero all'utente e poi dopo esegua un'operazione matematica su questo numero e poi stampi il risultato allora qua per esempio ci possiamo scrivere inserire un numero intero due punti spazio ora se noi facciamo partire questo programma vedete cosa succede sullo sprite si attiva un fumetto che mi chiede inserire un numero intero io per esempio ci scrivo 12 il programma però finisce lì perché io non sto facendo null'altro ora dove va a finire questo 12 che io ho appena inserito va a finire dentro una variabile che si chiama ASVER allora che cos'è una variabile la variabile è uno dei concetti dei concetti chiave che vedremo oggi ed è cos'è una variabile come dice il nome è un qualcosa che varia nel tempo quindi è una scatoletta che contiene un valore questo valore può essere di diverso tipo in questo caso un numero intero quindi un numero 1, 2, 3 una cosa di questo genere e questo numero può variare nel tempo in questo caso varia perché noi ne inseriamo uno nuovo e quindi lo andiamo ad incastrare in questa scatoletta benissimo allora quindi dopo la mia operazione di richiesta all'utente io mi ritrovo con la variabile ASVER che contiene 12 come faccio a visualizzarla? beh potrei fare una cosa del genere faccio 6 no? e vedete che qui c'è scritto di ELO per 2 secondi anziché ELO io posso fare di ASVER ok? quindi cosa faccio? chiedo il numero e poi lo dico diciamolo tramite un fumetto lo visualizzo per 2 secondi naturalmente io qua ci potrei mettere un secondo o 5 o quello che voglio ora supponiamo di farlo partire vedete che a questo punto io qua ci scrivo di nuovo 12 e lui mi genera un fumetto per un secondo con su scritto 12 bene abbiamo realizzato il nostro primo programma però io lo vorrei un pochino più complicato perché così è veramente troppo semplice vorrei eseguire un'operazione matematica anche semplicissima su questo numerino allora io so che il numero è chiuso dentro ad ASVER però io voglio vorrei avere un'altra variabile che mi faccia da magazzino e vorrei poi incrementare quel valore come faccio? beh allora vorrei una variabile chiamata numero il nome naturalmente lo decido io me lo invento io a mio piacere benissimo allora realizziamo questa variabile e la chiamiamo numero notate che all'interno delle variabili è bene non mettere anzi è proprio grande diciamo che è un ottimo modo per cercarsi guai inserire degli spazi quindi per esempio mai una cosa del genere diciamo una cosa simile ecco non ha molto senso insomma quindi niente spazi in realtà dentro a scratch e dentro a snap si può fare però la cosa diventa un pochino complicata bene qual è il concetto principale di variabile il concetto è che la variabile appunto può assumere dei vari valori ma è molto importante tenere conto del fatto che per quanto possa cambiare il valore all'interno della scatoletta in ogni istante in ogni momento all'interno di quella scatoletta ci sarà sempre solo un valore a seconda di quello che noi abbiamo inserito il numero di possibili valori è potenzialmente molto elevato giusto per vostra curiosità magari qualcuno di voi avrà sentito parlare dei computer quantistici una variabile all'interno equivalente di una variabile all'interno di un computer quantistico anziché come in questo caso assumere un solo possibile valore in ogni istante di tempo ebbene all'interno di un computer quantistico può assumere moltissimi valori tutti allo stesso nello stesso momento che ovviamente è una cosa diciamo poco intuitiva bene abbiamo creato la nostra variabile che si chiama numero vedete che ce l'abbiamo qua adesso io voglio innanzitutto caricare il valore di Hanswer che era il 12 che io ho inserito eventualmente voglio caricarlo dentro a numero allora devo andare a prendere questo blocchetto vedete questo blocchetto cosa fa? setta inserisce che cosa? numero e vedete che qui in questo piccolo menu a discesa c'è solo numero perché è l'unica variabile che abbiamo creato se ne avessimo creati delle altre ci sarebbe stata a cosa? a zero e no io voglio metterlo ad Hanswer ok? quindi dopo questo blocchetto notate che qui noi stiamo realizzando un programma e un programma è per definizione una sequenza di istruzioni in questo caso le istruzioni sono dei blocchetti grafici perché ripeto ho scelto snap perché in questo modo dovrebbe essere più semplice comprendere i concetti di base della programmazione in quanto con i blocchetti diventa più facile diciamo vedere queste diciamo strutture dati in azione quindi in questo modo ne abbiamo inserito Hanswer dentro numero benissimo adesso però noi vogliamo far sì che il numero venga incrementato di un valore per esempio 5 allora vedete che io qua ho un altro blocchetto che si chiama change io ovviamente qui pescherò di nuovo numero e io qua ci metto 5 quindi cosa farà questo secondo blocchetto il primo blocchetto prenderà Hanswer lo metterà dentro numero il secondo blocchetto cambierà numero di 5 ora questo secondo blocchetto che cosa fa in pratica fa aggiunge 5 a numero ok? notate che se io mettessi qua meno 5 farebbe numero toglierebbe 5 a numero ok? in questo caso però noi vogliamo fare più 5 ora questo tipo di blocchetto rappresenta quello che nella programmazione è chiamato assegnazione ok? questo in particolare questa è un'assegnazione nel senso che qui uno prende Hanswer e lo assegna a numero in questo caso l'assegnazione più che un'assegnazione non è un'assegnazione è un incremento diciamo un calcolo vero e proprio quindi io posso fare così quindi allora ho messo Hanswer dentro numero ho incrementato numero di 5 e adesso potrei voler stampare numero ok? allora io cosa posso fare anziché stampare ello? e beh io trascino questo e ci metto numero notate che tutti i blocchetti hanno una loro forma come i pezzi di un puzzle e si possono sono appunto realizzati per incastrarsi notate anche che lo stop che è l'ultimo non ha più possibilità di incastro tra l'altro qui vedete ci sono varie possibilità io prendo this script perché in questo modo si ferma solo questo questo è uno script ok? ok benissimo a questo punto noi abbiamo leggiamo chiediamo un numero intero lo carichiamo dentro a numero a partire da Hansberg lo incrementiamo di 5 e lo stampiamo proviamo a vedere inserire un numero intero 12 e vedete che lui mi scrive 17 ok? però io vorrei ancora fare qualcosa di un pochino più sofisticato io qui vorrei scrivere non solo numero io vorrei scrivere qualcosa come diciamo una frase per esempio il numero ora vale ok? allora come faccio a fare una cosa del genere? ho bisogno di questi oggetti che si chiamano operatori in particolar modo qui mi viene offerto un operatore chiamato join a cosa serve? beh come dice il termine join unisce 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 cosa? unisce due pezzi possono essere una stringa un numero insomma è molto flessibile da questo punto di vista snap e in questo caso io cosa posso scrivere? per esempio qui posso scrivere al posto di hello io posso scrivere il numero ora vale ok? spazio mentre invece poi qua io prendo numero e lo infilo qui dentro ok? quindi il numero ora vale numero benissimo questo questo blocchetto verde è di fatto l'unione di il numero ora vale numero ok? quindi a questo punto io non dovrò dire più hello ma dirò questo l'unione di questi due blocchetti ok? eccolo qua adesso lo riagganciamo e adesso avremo quello che desideravamo desideravamo ok? vedete inserire il numero intero il numero ora vale 17 ok? bene abbiamo visto di fatto il nostro primo programma anche se sembra abbastanza semplice è in realtà abbastanza raffinato perché contiene in sé il concetto di programma come sequenza di istruzioni che in questo caso sono dei blocchetti contiene in sé il concetto di di assegnazione e anche il concetto di diciamo di operazione aritmetica e poi questo è l'input quindi l'ingresso dei dati dalla tastiera e questo è l'output cioè la visualizzazione e poi c'è il termine l'inizio e il termine ok? molto bene a questo punto io qui vorrei farvi vedere siccome altrimenti qua rischiamo di essere di essere avulsi da quello che poi poi vedrete nel corso del primo anno io vorrei farvi vedere l'equivalente di questo programma che direi che è sicuramente semplice l'equivalente nei due linguaggi che vengono usati principalmente e quindi cominciamo dal C questo è lo stesso identico programma scritto in C ora se voi lo mettete a fianco vedete che a parte alcune cose che ovviamente noi qui non vedremo questa è la diciamo la dichiarazione della variabile numero quella che noi abbiamo fatto tramite il menu poi questa è la parte di lettura in particolar modo la scanf legge il numero ok? legge il numero e lo assegna quindi fa contemporaneamente questo e questo ok? poi c'è numero uguale numero più 5 e questa questo blocchetto qua ok? change numero by 5 significa in questo caso numero uguale numero più 5 notate che se io facessi per esempio numero uguale numero più 1 incrementerei semplicemente numero di 1 per vostra curiosità in C se io incremento numero di 1 posso anche scrivere numero più più e sempre per vostra curiosità avrete sicuramente sentito nominare il linguaggio di programmazione C++ e come potete pensare C++ è un C con qualcosa in più quindi un C più 1 C uguale C più 1 è un piccolo aneddoto ovviamente però dovrebbe dare l'idea dello spirito della programmazione in C e questo è l'output quindi input elaborazione output il meccanismo di base di tutti o quasi tutti i programmi quindi input elaborazione output ok bene l'abbiamo visto in C adesso con passi che ovviamente non vedremo proviamo a lanciarlo ok quindi in questo caso scriviamo 12 inserire un numero intero 12 lui mi scrive il numero ora vale 17 è esattamente quello che ci aspettavamo ora guardiamo la stessa cosa in python questo è il programma scritto in python io sto ovviamente visualizzando questi programmi in una maniera che non è esattamente quella standard ma per semplificare molto le cose vedete che il numero il programma scritto in python è ancora più semplice è veramente direi banale per cui noi cosa facciamo chiamiamo una funzione chiamata input inserire un numero intero da cui ne viene fuori una stringa la stringa viene convertita in un numero tramite questa int e viene inserita nella variabile chiamata numero dopodiché si fa numero uguale numero più 5 e poi si fa print che voi capite essere l'output il numero ora vale numero ok quindi di nuovo input elaborazione output se voi andate a guardare vi è una corrispondenza quasi bionivoca con i blocchetti di snap ok ora questo lo possiamo chiudere lanciamo l'equivalente in python inserire un numero intero 12 17 ok ora ripeto non è il sistema più standard per lanciare i programmi python però per questo per i miei scopi in questa prima puntata direi che è ottimale ora sempre per darvi un'idea la più chiara possibile di che cos'è un programma voi direte sì però questi sono programmi giocattolo bene allora vedete qui noi adesso stiamo usando il browser che si chiamano questo browser è firefox notate che il firefox per esempio l'internet explorer non è sufficiente per far girare snap ma neanche scratch quindi ci vuole per esempio firefox quindi se non l'avete sul vostro computer ve lo dovete installare ma non ci sono particolari problemi ebbene questo programma voi capite che è decisamente importante ora se qui voi guardate il numero di linee di codice corrispondenti supponendo di mettere una linea per ogni riga siamo a 6 ok più o meno lo stesso numero che c'era in C più o meno lo stesso numero che c'era in Python in Python qualcosa meno ok bene allora il programma equivalente che controlla firefox voi capite che è molto più grande perché deve far funzionare tutto quanto ebbene parliamo di una cifra un numero di linee di codice superiore al milione un milione un milione e mezzo forse due adesso io non ho le idee non ho un'idea precisa però sempre per farvi vedere per darvi un'idea quindi un numero mastodontico tenete presente che durante il corso di informatica del primo anno i programmi che vi saranno richiesti saranno dell'ordine delle 100 linee di codice quindi decisamente malleabili ora però io volevo farvi vedere per pochi istanti com'è veramente il codice di un programma come firefox firefox è un programma di tipo open source e quindi il codice si può scaricare io l'ho scaricato per mostrarvelo eccolo qua in questa cartella di dimensioni piuttosto cospicue in realtà c'è tutto il codice sorgente volendo si può ricompilare completamente da zero cioè si può rigenerare firefox a partire di qua ora per esempio vedete ci sono moltissime directory perché è chiaro che un milione o due milioni di linee di codice non possono certo essere messe in un file quindi io vado dentro a scusate dentro a browser ok per esempio prendiamo qua vedete questo è solo un esempio ma ce ne sono a decine di queste directory per esempio prendiamo uno di questi ok prendiamo questo va via come facciamo ad aprirlo lo dobbiamo aprire in qualche maniera diciamo apri con apriamo con wordpad ecco vedete questo programma che già nel suo nel suo piccolo è molto più grande di quelli che abbiamo visto noi ma ripeto sono piccolissima parte bene questo è un programma scritto in javascript diciamo un parente stretto del javascript e quindi diciamo che fare forse in parte scritto sicuramente in javascript ma non solo in javascript per esempio possiamo andare in quest'altra directory ora in quest'altra directory vedete che qua questo è un file python ok quindi qui di nuovo possiamo fare wordpad e vedete che qui abbiamo un pezzo vedete c'è scritto python questo ovviamente il programma è molto più complicato di quello che abbiamo fatto noi e quindi significa che è scritto anche in python ok ma non solo qui c'è del c++ vedete io faccio apricone wordpad vedete questo è c++ vedete molto simile al c anche se ha oggetti vedete che questo programma in particolar modo questo pezzo di codice è decisamente più lungo e più complicato ok ebbene complessivamente potete considerare almeno penso che il numero in realtà sia superiore un milione di linee di codice ora un milione è un numero molto grande ma per darvi l'idea dell'importanza dell'enormità di questo numero vi ricordo che la Treccani l'enciclopedia Treccani è composta da circa una cinquantina di volumi ciascuno di questi volumi da 2000 pagine ogni pagina possiamo dire che sia da 50 righe sono 5 milioni di righe ebbene qui ce n'è almeno uno di milioni di righe quindi è un quinto della Treccani scrivere la Treccani diciamo che è uno sforzo non banale quindi scrivere Firefox è uno sforzo non banale non solo un milione di linee di codice per un browser ma il sistema operativo Windows per esempio per funzionare è lui stesso un programma un programma molto più gigantesco di un browser ebbene un sistema operativo può viaggiare intorno alle 20 milioni di linee di codice infine due piccole note innanzitutto questi programmi non sono perfetti in generale l'ingegneria del software che è diciamo la parte dell'ingegneria informatica che si occupa della progettazione del software ha qualche ha delle piccole regole empiriche ora una regola empirica dice che ogni mille linee di codice scritte c'è un errore chiamato bug e questo bug non si riesce a correggere nel senso che c'è anche se noi non lo sappiamo non sappiamo dov'è ok quindi se ci pensate significa che il Firefox con il suo milione di linee di codice potrebbe avere circa mille bug bug non corretti che nessuno correggerà mai e che ogni tanto possono provocare dei malfunzionamenti parziali ok infine un ultimo numero interessante pensate che voi direte ma quanto ci vuole a scrivere un programma così grande ok ebbene un'altra regola semi empirica dell'ingegneria del software dice che uno sviluppatore professionista scrive in media 10 linee di codice al giorno questo numero sembrerebbe piccolissimo ma comprende naturalmente tutta la fase di progettazione e di test che deve essere ovviamente molto complessa perché un conto è realizzare un programmino come quello che abbiamo fatto noi e un altro conto è realizzare un programma professionale che deve funzionare perfettamente ora dopo questo breve escursus che aveva il compito sostanzialmente di farvi capire a cosa andiamo incontro anche se noi naturalmente ci occuperemo di qualcosa di molto più piccolo vediamo degli altri piccoli esempi abbiamo visto il nostro primo programma bene cancelliamo questo primo programma e vediamo subito qualcosa di più interessante di più semplice ma al tempo stesso più interessante vi ho fatto vedere prima un esempio in cui io facevo muovere il mio sprite ok perché vi ripeto questo ambiente di programmazione è fatto soprattutto per i videogiochi insomma per ambienti di animazione per interazione di un vario di vario tipo benissimo allora mettiamo move e vedete che noi qui poi qua fermiamo lo script ok vi ricordo che questo è uno script cioè nella terminologia snap è un programma questo programma può viaggiare per i fatti suoi come abbiamo fatto prima ma in generale il suo input e il suo output si verificano in questa finestra che come vi dicevo prima è fatta per applicazioni grafiche quindi il suo scopo principale è ad esempio fare muovere o animare questi sprite questi folletti benissimo allora vedete che io prima ho fatto così tutto a posto adesso io cosa voglio fare beh allora sia in qui sia in C sia in Python non abbiamo fatto un solo programma ok ma qui questo meccanismo snap così come anche scratch permette di fare qualcosa di più carino con sforzo veramente minimo anziché move noi possiamo anche fare turn ok cioè facciamo girare ebbene cosa succede se io adesso premo clicco sul tasto con la bandierina verde vedete che il mio sprite contemporaneamente si muove e gira ok quindi questo significa che noi abbiamo due programmi due script così come vengono chiamati che contemporaneamente agiscono sullo stesso sprite ok ora sembra sembra una cosa banale ma in realtà è una cosa estremamente raffinata perché significa che noi stiamo abbiamo realizzato con pochi blocchetti un programma multi thread che cioè segue più thread cioè più fili di programmazione cioè più programmi e questi programmi in questo caso stanno collaborando stanno lavorando assieme perché vedete che tutti e due questi programmi questi script intervengono sullo stesso sprite facendolo muovere in modo opportuno ok quindi vedete se io faccio partire soltanto questo lui ruota solo se io faccio partire solo questo va avanti ma se io li faccio partire tutte e due assieme vedete che lui ruota attorno a un centro ok bene ma quindi noi possiamo realizzare un programma multi thread pensate con questo snap cosa che in C è decisamente più difficile anche in python non troppo però decisamente più difficile bene però io posso fare ancora delle altre cose in più vi ho detto che questo sistema serve per i videogiochi beh è chiaro che un videogioco non può avere un solo sprite pensate a un videogioco con svariati personaggi allora io cosa posso fare posso aggiungere un nuovo sprite eccolo qua il mio nuovo sprite è sempre una freccia però vi ricordo che qui io posso metterci qualsiasi cosa posso disegnarlo anche posso fare quello che voglio anche lo sfondo può essere colorato a piacere ora vedete che il mio programma è sparito non è sparito in realtà questi erano gli script dello sprite 1 questo è lo sprite 2 e quindi può avere degli altri degli altri script per esempio supponiamo di voler copiare questo script in questo secondo sprite beh se io lo trascino così vedete mi si attiva mi si illumina questo sembra che non sia successo nulla ma se io vado qua vedo che qua c'è quest'altro ora se io faccio partire tutto assieme vedete cosa succede succede che lo sprite grigio scuro ruota attorno a diciamo un centro ipotetico quello blu si sposta quindi ancora una volta noi stiamo utilizzando un programma multitasking composto diciamo da per così dire due processi questo processo è composto da due thread e quest'altro processo è composto da un unico thread questi due processi non dialogano espressamente tra di loro mentre questi due thread si dialogano espressamente perché tutti e due pilotano lo stesso sprite ora ancora una volta voglierei sottolineare che questa cosa apparentemente così banale è estremamente complicata e porta con sé delle complicazioni non banali che vedremo brevemente in una delle prossime puntate bene adesso però dobbiamo ancora fare alcune cose prima di finire questa puntata allora innanzitutto eliminiamo il secondo sprite e adesso proviamo a fare qualcosa di più raffinato allora tanto per cominciare questo lo riportiamo un po' qua allora innanzitutto ci sono anche dei blocchetti che permettono di portare lo sprite in posizione iniziale quindi per esempio 0 0 questo lo dovete immaginare come un piano cartesiano ok quindi qui c'è il primo quadrante quindi asse delle x asse delle y positivo e qui c'è lo 0 0 ok quindi 0 0 lo porterà qua dopodiché c'è anche il l'inclinazione no il verso perché naturalmente questo è anche un verso 90 gradi è verso destra quindi in questo modo vado in centro punto verso destra e quindi lo posso mettere per così adesso io vorrei provare a percorrere con questo sprite un piccolo quadrato quindi partire di qua poi fare così così e così e tornare al suo posto fare in modo che torni al suo posto allora io cosa devo fare quindi mi devo muovere per esempio di facciamo 20 passi e poi devo girare però non in senso orario ma in senso anti-orario di 90 gradi ovviamente ok ecco qua quindi in questo modo mi porto lì mi allineo vado così e mi giro proviamo a vedere che cosa succede vedete non ovviamente i passi li ha svolti molto rapidamente allora io cosa potrei fare beh per esempio potrei aspettare qua ecco mettiamo qua wait one second in questo modo riesco a vederlo un pochino meglio vedete ecco così benissimo a questo punto io posso vedete questo è il blocchettino che mi interessa io lo duplico ok lo aggancio lì duplico tutto quanto metto qua poi qui faccio un poco di spazio questo lo metto qua questo lo incastro qua sotto ok vedete ha percorso il suo quadrato molto bene però non lo vedo questo quadrato bene come posso fare a farlo vedere vi ricordo che questo che questo ambiente serve esplicitamente per videogiochi e sistemi di animazione bene quindi possiamo far finta possiamo immaginare che questo sprite in realtà sia una penna che normalmente vola al di sopra di un foglio di carta bianco però al momento buono io la posso abbassare e allora vedete che qui c'è la voce penna io cosa faccio all'inizio pulisco il foglio ok pulisco il foglio bianco poi mi porto al centro e poi cosa faccio abbasso la penna per poter scrivere ok a questo punto a questo punto vedete che io pulisco il foglio vado in posizione centrale abbasso la penna per scrivere scrivo e a questo punto qui faccio pen up ok se adesso io lo faccio partire vedete che lui mi disegna il mio quadrato ok molto bene a questo punto vorrei fare ancora qualcosa di più vedete allora vedete che noi qui abbiamo questo oggettino questa sequenza di blocchetti quindi questo sottoprogramma che è formato da 4 pezzi tutti uguali allora voi avrete probabilmente immaginato che non è una cosa molto furba scrivere 4 volte lo stesso codice se fosse un esagono già ti sarebbe più complicato figuriamoci un decagono quindi uno potrebbe per esempio pensare ma posso fare realizzare questa operazione molte volte dicendogli semplicemente di fare questa operazione molte volte sì se io vado qua vedete che io qui ho vari blocchetti per esempio forever per sempre ma io posso prendere repeat until ok quante volte devo realizzare quest'operazione 4 questo questo blocchetto io cosa faccio lo vado a incastrare qui dentro vedete perché la repeat è costruita appositamente per questo in questo modo che cosa succede succede che lui cosa farà scusate qui ho dimenticato però un pezzetto ecco qua vedete vedete che io a questo punto ripeto per 4 volte l'operazione e non devo più questa cosa questo lo posso prendere e buttare per cui io a questo punto vedete che ottengo lo stesso identico risultato bene direi che abbiamo quasi finito per oggi ma vorrei ancora vedere una cosa vedete qua noi ci muoviamo di 20 posizioni ok ma perché ci dobbiamo proprio muovere di 20 potremmo mettere 30 40 e allora perché non realizziamo una variabile e leggiamo dalla variabile il valore quindi potremmo prendere per esempio una variabile e leggere il valore ok e vi faccio solo vedere perché poi questo sarà di fatto il vostro piccolo esercizio allora io cosa potrei fare per esempio scusate ecco qua è bene che lo fermi allora io qua potrei fare uffa potrei mettermi qua ok e creare una variabile vedete che qui c'era numero questa la posso vabbè facciamo un'altra variabile lunghezza lato ricordatevi mai spazi notate che vuol dire che questa variabile è visibile per tutti gli sprite anche questo è un concetto di programmazione multitread e multiprocesso ma per il momento lo ignoriamo lunghezza lato ok benissimo quindi questa è la mia variabile quindi io che cosa posso fare posso andare qua chiedere lunghezza lato punto interrogativo ok poi vi ho detto prima che la risposta è dentro ad answer diciamo semplifichiamo la faccenda diciamo così e siccome la lunghezza del lato è piazzata qua io potrei andare a prendere semplicemente qui e scrivercelo qui ok ripeto se invece volete fare un lavoro come si deve prendete lunghezza lato copiate answer dentro lunghezza lato come abbiamo fatto prima e qui dentro ci mettete lunghezza lato ok proviamo a vedere che cosa succede lunghezza lato ci mettiamo 50 vedete che a questo punto il disegno è da 50 come lato ok bene con questo direi che abbiamo terminato ancora solo una cosa supponiamo che voi vogliate salvare questo vostro programma perché lo volete riutilizzare andate qua fate export project c'è anche un altro modo però è meno pratico export project per esempio lo chiamate quadrato ok fate ok vedete accettate salva file notare che è un file .xml faccio salva file vedete che a questo punto lui esattamente come se avessi fatto il download di un qualche file me l'ha messo qua quindi io lo posso semplicemente prendere di qui e caricare qua ok quindi questo è il mio programma se io poi decido di ricaricarlo faccio così faccio import ok vado sul desktop dove l'ho salvato prendo quadrato lui me lo carica ed eccolo qua come prima ok quindi l'esercizio per la prossima volta quale sarà sarà quello è quello di dire ok qui abbiamo la lunghezza del lato ma io vorrei anche poter disegnare non solo un quadrato ma un poligono con un numero di lati a piacere quindi in pratica io vorrei cambiare il numero di lati cambiare il numero di lati significa avere una nuova variabile la nuova variabile si verrà verrà inserita qua ok al posto di 4 però andrà a influenzare anche questo 90 perché 90 è 360 diviso 4 ma io qua dovrò inserirci il valore opportuno come posso fare vedete se io qua prendo operatori io potrei per esempio qui scrivere anziché 90 ci scrivo per esempio 360 diviso 4 ma nel caso del programmino che vi sto suggerendo di fare al posto del 4 ci metto il numero dei lati quindi questo esercizio lo svolgeremo la prossima volta e per oggi è tutto grazie grazie a tutti